buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi e sabato 19 febbraio 2022 a prima di sfogliare i giornali sfogliamo il libro dei santi per vedere chi si festeggia oggi ecco la grafica abbiamo il beato corrado confalonieri era un nobile del 300 appassionato cacciatore pensate un episodio che cambiò letteralmente la sua vita un giorno per stanare la selvaggina diede fuoco alla macchia che circondava appunto una zona molto protetta lo voleva fare per stanare la selvaggina ebbene le fiamme si svilupparono a tal punto tanto che investirono campi colture e raccolti appunto dei contadini di questo fu accusato un contadino che fu condannato a morte il giorno del supplizio corrado però non resistette dal non confessare la sua colpa e salvò l'innocente lui fu condannato a risarcire tutti i danni era un nobile quindi non fu condannato a morte però questo lo condusse in miseria lo fa lo fece cadere in rovina e così si fece penitente insieme alla moglie che poi entrò in convento lui girò un po in tutta italia finché non giunse in sicilia dove visse da eremita e compì tante opere buone fu così che lì morì in terra siciliana dove le sue spoglie riposano nella basilica di noto questo è il beato corrado confalonieri ed ora procediamo con le condizioni del tempo vediamo che la situazione nelle marche è un po incerta abbiamo cieli velati ma una nuvolosità in aumento in giornata con piovaschi specialmente nella sera sul pesarese le massime arriveranno sui 15 16 gradi le minime si attestano sui 9 gradi quindi abbiamo una temperatura piuttosto mite i venti spireranno sulle coste da est sud est sull'interno con una forza debole da nord est ed ora apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano l'apertura è dedicata alle barriere architettoniche un problema difficilmente risolvibile perché ce ne sono tante in città strade groviera percorso a ostacoli per i disabili c'è un reportage che ha effettuato il resto del carlino coinvolgendo massimo domenicucci che è il presidente della piattaforma solidale che si occupa di promuovere le tematiche dell'accessibilità e dell'inclusione per quanto riguarda coloro che si muovono in carrozzella beh ci sono diverse diversi problemi per custoro fano purtroppo è una delle realtà in cui il problema dell'accessibilità è molto presente ha detto domenicucci molte strade anche del centro storico sono impercorribili perché presentano molte zone dissestate e molte buche la pavimentazione con il porfido largo se non ben mantenuta da problemi seri alla colonna vertebrale di chi si muove in carrozzella perché continue sono le sollecitazioni in più quando la carrozzina si impunta nelle buche è difficile poi rimetterla in movimento è insomma un problema che dovrebbe essere risolto il comune ancora non ha approvato il PEBAB il MEBAB insomma è un progetto per quanto riguarda l'abbattimento il PEBAB l'abbattimento delle barriere architettoniche e qui siamo un po in ritardo e poi il giornale analizza gli altri problemi che sono alla ribalta come per esempio quello della pista ciclabile dell'Arzilla per cui l'associazione naturalistica lupus in fabula ha presentato una diffida all'amministrazione comunale l'associazione attraverso il proprio legale chiede agli enti di annullare gli atti e i provvedimenti adottati la richiesta di annullamento riguarda la stessa gara di appalto che è stata assegnata gara che secondo lupus in fabula sarebbe stata indetta sulla base di un progetto tecnico che violerebbe quanto deliberato dal consiglio comunale nel 2018 che non prevede la riduzione dell'ampiezza della pista ciclabile per la conservazione del maggior numero possibile di piante insomma ci sono diverse eccezioni specialmente anche quella delle cestonate che fa lupus in fabula e fanno anche altri ambientalisti come il comitato appunto per una viabilità compatibile ieri è stato presentata l'attività del paricentro la nuova istituzione dedicata in modo particolare alle donne ma anche a tutti che è stata aperta in via montevecchio a fanno l'assessore cucchiarini dice non è un centro antiviolenza né uno spazio di presentazione è molto di più e anche questo ovviamente ma è molto di più tre sono in modo particolare i servizi che sono stati annunciati il primo è quello di una consulenza legale gratuita gratuita alle donne che hanno dei problemi e il secondo è quello della integrazione per quanto riguarda le persone immigrate che vengono nella nostra città oppure anche persone che non riescono a relazionarsi con gli altri il terzo invece è un problema che riguarda i diritti del lavoro la difesa dei diritti del lavoro e in questo caso è stata implicata anche la cgl dunque un servizio aperto a tutti in maniera gratuita in via montevecchio nei pressi dell'episcopato insomma siamo lì in quella zona del centro e per quanto riguarda invece le contestazioni per la cabina elettrica che dovrebbe essere installata in via dello squero parte una raccolta di firme contro appunto questo provvedimento da quanto emerso nell'incontro di giovedì scorso sarebbero rimasti in gioco due siti via dello squero e la vicina piazza calafati ma entrambi questi siti non vengono giudicati idonei da parte dei residenti e quindi questi sono ancora di più sul piede di guerra e vedremo come andrà a finire questa storia passiamo alla val cesano positivi più che dimezzati nei comuni cesanensi e quelli appunto che sono stati giudicati considerati positivi al covid sono passati da 1194 dal 4 febbraio scorso ai 556 di ieri sono veramente dimezzati la percentuale più alta si è registrata pergola al secondo posto c'è monteporzio sono numeri incoraggianti queste un po anche dappertutto non solo appunto in questi due centri ma che comunque non devono far abbassare la guardia perché insomma il covid è sempre lì in guardia in attesa se vede uno spiraglio ci si inficca dentro bilancio la minoranza il sindaco non ci ha coinvolto a mondavio il leader del gruppo mondavio città nuova girolamo martino critica zenobi per quanto riguarda appunto la redazione del bilancio della cittadina metaurense caro energia la morsa surbino e ferminiano mezzo milione di aumenti per il primo 200 mila per il secondo il sindaco feduzzi monumenti al buio senza limitazioni di orario insomma tante volte abbiamo detto in questi giorni che il caro vita coinvolge anche le istituzioni anche i bilanci dei comuni e questi hanno il problema di predisporre i servizi ma con fondi che vengono poi limitati perché buona parte del bilancio serve per pagare come come per quanto riguarda le famiglie come per le famiglie stesse appunto il caro energia l'arte spiegata gratis agli operatori sanitari a durbino è una iniziativa questa delle guide turistiche che parte domani e poi si prolunga anche fino a lunedì sono compresi tra i fruitori anche le forze di polizia e i volontari conoscere la propria città conoscere i monumenti la sua storia per poi illustrarli ai turisti ai visitatori ma anche agli stessi cittadini è una prerogativa che viene incentivata appunto dalle guide turistiche organizzeremo dei mini gruppi nei luoghi più belli della città hanno detto i numeri saranno però contingentati troppo caos in poco tempo il belzebut chiuso per 15 giorni a monte calvo il provvedimento a carico del pub pizzeria droga e ordine pubblico doppio intervento dei carabinieri e il pestore sospende la licenza trovato in fallo appunto questo locale di monte falco invece vediamo ancora per quanto riguarda pesaro la pagina inizia le pagine di pesaro inizia con i problemi sempre del caro vita che coinvolgono anche la caritas dunque le famiglie in primis le istituzioni e subito dopo e poi anche gli enti che dovrebbero aiutare coloro che sono in difficoltà in questo caso la caritas qui abbiamo il coordinatore della caritas di pesaro si tratta di andrea mancini costi triplicati nelle case per il senza tetto ha dichiarato andrea mancini servizi da mantenere non possiamo peggiorare la situazione di chi è già in difficoltà e le bollette li evitano anche all'interno dei settori che si occupano dell'aiuto dei più deboli là dove una spesa in più significa un sostegno in meno a chi non ce la fa insomma se anche poi queste istituzioni debbono pagare gli aumenti ovviamente lo devono fare gli aumenti della energia del gas eccetera hanno meno risorse poi per aiutare i più deboli che sono alle prese con gli stessi problemi e le maxi dossier con decine di bollette pazze stiamo rischiando il lockdown economico dopo il lockdown sanitario arriva quello economico la confcommercio ha raccolto una montagna di fatture relative ai costi impazziti di luce e gas e le ha consegnate al prefetto ebbene una storia simbolo un albergo pagava meno di 2.000 euro per le utenze quest'anno le bollette sono arrivate a 6.500 da 2.000 a 6.500 veramente un aumento stratosferico e poi parliamo del pronto soccorso parliamo del pronto soccorso per la novità che è stata già annunciata nella giornata di ieri e del cambio del responsabile abbiamo il dottor titolo che sostituisce il dottor ignudi alla guida del pronto soccorso e sosterrà questo incarico fino al nuovo concorso il nuovo primario facente funzioni Giancarlo titolo subito il primo provenimento per ridurre i casi di lunghe attese sulle barelle e qual è questo primo provvedimento? si tratta della riattivazione del lobby l'osservatorio breve intensiva c'era già ai tempi del primario Lofreda poi è stato travolto questo dalla pandemia sarà il ripristino di una sorta di zona filtro nella quale verranno inseriti i pazienti con determinate caratteristiche particolari lì si fanno esami e approfondimenti in tempi ragionevoli, rapidi, ottimizzando l'utilizzo dei posti letto quindi non ci saranno più quelle lunghe attese sulle barelle di coloro che sono in attesa di esami appunto di diagnosi per quanto riguarda i loro malanni ma questo servizio di hobby osservazione breve in intensiva sarà un servizio molto molto più compatibile con le esigenze di chi ha bisogno delle cure del pronto soccorso ecco dunque i due protagonisti Giancarlo Titolo, il nuovo primario facente funzioni del pronto soccorso mentre qua abbiamo il dottor Gniudi e ancora qui abbiamo un articolo che riguarda il nuovo assessore Pozzi che si presenta come un uomo del fare, un uomo concreto, un uomo pragmatico il comune ora lancia la città a cantiere, risistemiamo ha detto Pozzi il padiglione dei fiori al cimitero centrale e ristrutturiamo l'osservatorio Valerio presto pronto anche il trail park di Muraglia quali sono le opere che si propone di fare il nuovo assessore Pozzi? ebbene in centro storico il comune ha dato il via al cantiere insieme a Marche Multiservizi in via delle Caligarie e poi nel contempo sono operai al lavoro al cimitero centrale per la messa in sicurezza delle lastre di marmo della facciata e dei parapetti inoltre la riapertura degli ingressi principali del padiglione Fiori è uno dei padiglioni più ampli del cimitero pesarese a Muraglia si completa il trail park con 50 mila euro di lavori e poi si ripristina la strada di San Donato di Ginestreto interessata da una frana ancora stanno prendendo forma anche le opere straordinarie la manutenzione della casa delle associazioni nel parco Miralfiore infine c'è l'atteso cantiere della lottizzazione Vigna Rossa a Pozzo Alto si tratta di un completamento delle opere di urbanizzazione per 683 mila euro con lavori che termineranno entro il luglio prossimo nel luglio del 2022 chiede 30 euro per le scarpe gliene spillano 1750 leggete con attenzione questo articolo del resto del carlino perché si parla di truffe si parla di truffe che non cessano mai truffe online, truffe in tutti i modi c'è una grande fantasia da parte dei malviventi per escogitare il modo di spillare soldi alla gente alla gente che poi si fida in questo caso una donna voleva racimolare 30 euro dalla vendita di un paio di scarpe però ce ne ha rimessi 1750 un uomo ha creduto a due finti bancari e ci ha rimesso 50 mila euro fate attenzione sono due esempi questi di truffa più che eclatanti che i carabinieri hanno segnalato negli ultimi giorni a conferma di un fenomeno le truffe online che ormai è una piaga sociale insomma ci si casca sempre anche se uno dice io non crederò mai alle offerte che verranno pubblicizzate promosse sul web un altro articolo di cronaca si spacciano per poliziotti e perquisiscono cinque ragazzini alla sbarra due pesaresi si tratta di due ragazzi uno di 22 e l'altro di 28 anni che sono finiti a processo con le accuse di sostituzione di persona e violenza privata per un fatto che si è realizzato insomma è stato nel giugno del 2020 nel parcheggio del Genga al campus così per divertimento hanno perquisito cinque minorenni spacciandosi per poliziotti e poi vediamo a questo punto questo articolo che riguarda Tavuglia frane e scuole ecco le priorità di questo centro è stata approvata una variazione di bilancio per 2 milioni e 700 mila euro si punta a risolvere il dissesto del territorio e realizzare la mensa alla primaria di Padiglione sono iniziative assunte dal sindaco Francesca Paolucci che appunto ha enunciato i provvedimenti per il 2022 a questo punto passiamo al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che l'apertura è dedicata alle attività del Pari Centro consulenze legali, donne, migranti e lavoro i tre servizi principali che verranno erogati da questa struttura tre sportelli per garantire parità e diritti sono state presentate nella giornata di ieri in conferenza stampa queste iniziative con il supporto della CGL prossimo step una sede del CAV ovvero del Centro Antiviolenza pessimo scaricabarile tra Giunta e Aset una dichiarazione del rappresentante della Lega e anche capogruppo in Consiglio Comunale Luigi Scopelliti il quale chiede un atto ispettivo urgente sulla vicenda della cooperativa contatto il cui contratto con l'Aset è stato appunto terminato, chiuso e questo ha causato il ritiro dal lavoro di cinque persone di cui tre disabili insomma un provvedimento che ha destato un po' il ramarico e le proteste di diverse entità compresi anche alcune componenti del Consiglio Comunale una simulazione per verificare il vero impatto della centralina l'esperimento in programma nei giardini di Via dello Squero e in Piazzale Calafati e c'è anche chi propone come Vincenzina Turiani l'interramento dell'intera struttura il che taglierebbe la testa al toro e quindi si eliminerebbe ogni impatto ambientale e poi abbiamo ancora qui una protesta di due professionisti ambientalisti si tratta degli architetti Roberti e Fiocco il quale contestano l'amministrazione comunale per quanto riguarda il progetto di parcheggio nell'area verde che si trova tra Via Giustizia e il cimitero centrale un'area verde ancora allo stato naturale che verrà poi così cementificata per quanto riguarda il parcheggio è una delle poche aree verdi rimaste al limite della città perché insomma snaturarla per quanto riguarda interventi che poi potrebbero essere evitati secondo appunto questi ambientalisti invece a fondo pagina abbiamo un intervento dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la scuola media Nuti una riqualificazione energetica verranno eseguiti lavori per 3 milioni e 600 mila euro verrà realizzato un cappotto sulla facciata esterna un tetto caldo sull'estradosso della copertura originale verranno sostituiti tutti gli infissi e poi ci sarà una ventilazione controllata che mitigherà la temperatura l'umidità e le emissioni di CO2 infine il comfort interno nelle aure verrà aumentato grazie a un appropriato ricambio dell'aria insomma alla fine verrà sostituita anche la centrale elettrica e verranno sostituite le lampade a fluorescenza in lampade a LED dunque un intervento considerevole alla scuola media Nuti che è la più antica della città di Fano infatti è l'erede del primo istituto che è stato realizzato nel 1862 due anni dopo l'unità d'Italia pensate la vetustà di questo istituto a Fossombrone la Caritas completati i lavori per la sede di Via Passionei il bilancio del 2021 tra investimenti aiute e famiglie e singoli in difficoltà un investimento che ha salvato che ha sanato diverse situazioni critiche nel corso dell'anno i volontari hanno incontrato 98 persone di cui 15 presentatesi per la prima volta per un totale di 131 colloqui nei confronti dell'anno precedente si registra un andamento poco più che costante della frequenza delle visite a Marotta dalla rotatoria a lungomare si aprono i cantieri il rondò di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi che verrà realizzato tra la Statale 16 e la 424 ovvero la Pergolese lavori anche nelle strade più trafficate sono lavori che ha enunciato il Sindaco Barbieri la grande rotatoria all'incrocio appunto tra l'Adriatica e la Pergolese verrà corredata poi da interventi su arterie molto trafficate come viale delle regioni e sul lungomare diversi e importanti lavori che nei prossimi mesi riguarderanno tutta la cittadina in primis appunto la rotatoria di cui abbiamo parlato e abbiamo anche una notizia di Senigallia di Senigallia che insomma piange ancora Giuseppe Lenoci lo studente che purtroppo è deceduto mentre si stava recando ad un corso di formazione il giovane stagista morto striscioni e proteste in centro a fermo con loro i genitori del ragazzo insomma non si crede che quello sia stato un incidente non non si crede appunto che sia stato un evento fortuito ci sono delle responsabilità che quello che ha ucciso Giuseppe Lenoci sia stato un incidente i manifestanti scesi in piazza ieri a fermo non lo vogliono neanche sentire dire per sbaglio per loro il sedicenne di Monte Urano morto lunedì a Serra dei Conti non avrebbe mai dovuto salire in quella macchina perché insomma dovrebbe stare a scuola in questo caso viene contestato anche il sistema dell'alternanza tra scuola e lavoro che è stato attuato senza le dovute protezioni senza le dovute garanzie insomma per questi manifestanti la scuola deve restare a scuola e non deve entrare non deve uscire nel territorio vediamo anche le notizie che riguardano Pesaro anzi partiamo dalla regione perché vediamo che nel nostro territorio si riattivano anche le le trivelle per quanto riguarda il gas che è sotto il fondo del mare adriatico per l'emergenza gas si riattivano le trivelle anche nelle marche e poi vediamo come oggi come anzi da lunedì prossimo le marche ritornano in giallo c'è il valser dei colori da lunedì siamo in gialli ma ricambia poco il ministro speranza ha firmato l'ordinanza spostamenti ora liberi e ingressi nei centri commerciali con il green pass base basta solo il green pass base nel risico dei contenitori il comune anticipa i soldi per guadagnare sui tempi sono soldi che devono arrivare dallo stato ma intanto per guadagnare tempi per non aspettare ancora le lungaggini della burocrazia il comune di pesaro anticipa i soldi perché cosa anticipa i soldi per avviare opere importanti ovvero gli interventi sul san domenico su palazzo mazzolari mosca e palazzo almerici sono tre contenitori strategici per la città che hanno ottenuto 20 milioni di euro di finanziamenti ministeriali che ora vengono anticipati appunto dall'amministrazione comunale altro che 30 o 40 per cento nelle dossier aumenti fino al 200 per cento e oltre è un dossier che la confcommercio ha presentato al prefetto vediamo qui in questa fotografia il prefetto che riceve appunto le dossier che poi lui stesso deve consegnare al presidente del consiglio dei ministri draghi la confcommercio ha consegnato il faldone con le bollette appunto al prefetto le proposte contro il caro tariffe ovvero ridurre l'iva insieme alle accise e agli oneri fissi ebbene qui concludiamo la nostra rassegna stampa non prima però di dirvi due cose per quanto riguarda oggi e sabato le partite in programma nel campionato di calcio Cesena grande squadra per la vissi è uno stimolo la squadra romagnola sarà la prossima avversaria domani alle ore 17 e 30 sul campo di una big del torneo banchini a intrasferta e per quanto riguarda invece il fano calcio scoppa arriva oggi a fano un rinforzo che dovrebbe fare la differenza l'appuntamento con russo per definire l'accordo e capire la sua condizione broso però annuncia occhio al chieti e questo per il momento è tutto massimo foghetti vi saluta vi da appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata